Decreto di sequestro preventivo di beni emesso dalla GIP del Tribunale di Catania per la società PAMA Immobiliare SRL, società legata alla Papino Elettrodomestici. Nel mirino degli investigatori sono finiti quattro immobili in provincia di Catania e Siracusa per un valore di circa 6 milioni di euro. Il provvedimento è stato emesso in seguito alle indagini condotte dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del Comando Provinciale di Catania coordinate dai magistrati della Procura della Repubblica Etnea. Le indagini hanno riguardato la gestione della società Papino Elettrodomestici in amministrazione straordinaria dal 2020 con un passivo accertato al momento di circa 20 milioni di euro. In particolare l'attività investigativa si è concentrata sull'attività dei vertici e consiglio direttivo del gruppo composto da Nunziatina Papino, Consolato Papino, Vincenzo Patti, Giuseppe Benedetto Giorgi Patti e Luciano Cozzubbo nei rispettivi ruoli di presidente del consiglio di amministrazione, consigliere delegato e componenti della collegio sindacale della Papino Elettrodomestici, indagati tutti per bancarotta fraudolenta in concorso. Per l'accusa il gruppo avrebbe distratto e dissipato risorse finanziarie della società a favore della Pama Immobiliare per un valore complessivo di circa 11 milioni e mezzo di euro, nonostante vi fosse, come detto, uno stato di insolvenza della società con un passivo accertato al momento di oltre 20 milioni di euro. Nella mirino degli investigatori è finita la documentazione contabile acquisita durante le perquisizioni effettuate all'interno delle società coinvolte. Dagli accertamenti è emersa una gestione non oculata delle risorse finanziarie, risultata dalla maggiorazione di canoni di locazione rispetto ai valori medi di mercato per un importo di oltre 3 milioni di euro. Ancora altre discrepanze riguarderebbero le indagini svolte in istituti di credito, dalle quali sono emerse, come dicono gli investigatori, distrazioni di denaro sotto forma di crediti, privi di giustificato motivo della Papino Elettrodomestici verso la collegata Pama Immobiliare, per un valore di circa 8 milioni e mezzo di euro. Secondo gli investigatori, le somme, pari come detto a 11,5 milioni di euro, sarebbero state reimpiegate dagli amministratori della Papino in attività immobiliari intestate alla Pama. In particolare sono stati accertati, mediante la ricostruzione dei flussi finanziari, il pagamento delle quote e il riscatto del leasing per la locazione di due immobili presso il centro commerciale Etnapolis e l'acquisto di altri due immobili a Siracusa per un valore complessivo di 6 milioni di euro.